Bisogna intervenire su questo decreto. Le Camere dovranno lavorare e proporre delle modifiche. Benvenga se questa posizione di rivedere la norma sull'indennizzo sarà la più larga possibile. Ci sono degli emendamenti. Da mercoledì e giovedì si avvia la discussione in commissione. Saremo lì, io sarò lì per il mio gruppo, immagino Zucconi sarà lì per il suo gruppo. Prendiamo un impegno. Ampliare la possibilità di indennizzo e inserire delle norme che riconoscano il valore aziendale e tutelino le attività a conduzione familiare dall'assalto dei grandi gruppi. Sono questi i punti di convergenza tra maggioranza e opposizione emersi durante la puntata di venerdì di per contro dedicata alla questione delle concessioni balneari. Nel salotto di Federico Conti, l'onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia e il deputato campano del Partito Democratico, Piero De Luca, si sono impegnati a rivedere nella direzione auspicata dai balneari il testo del decreto emanato qualche settimana fa dal governo. Un accordo bipartisan raggiunto in diretta tv davanti a Marco D'Addio, presidente dei balneari di Lido di Camaiore, che ha illustrato chiaramente gli scenari in caso questo patto salva balneari dovesse naufragare. Noi possiamo, con preavviso di 90 giorni, demolire lo stabilimento balneare. Ora, i piani di utilizzo degli arenili dei vari comuni versilesi, ma anche un po' di tutta Italia, sono tutti bloccati. I prossimi tre anni il nuovo acquidente li passerà a passare le giornate sane in comune, alla sovrintendenza, a cercare di fare un minimo di cabine, non di strutture, un minimo di cabine. Insomma, il messaggio è chiaro. Se i balneari non avranno le tutele che chiedono, da 15 anni sono pronti a smantellare gli stabilimenti, stravolgendo il panorama e l'offerta dei servizi sul litorale. Con tutto quel che ne consegue in termini di turismo.